L'arte di Piero della Francesca si trasforma in un gioiello grazie ai manufatti realizzati dagli studenti del Dipartimento Aretino dell'Università di Siena. Ispirati dalle geometrie del celebre artista Biturgenze, i corsisti del Master in Storia e Design del gioiello hanno dato vita ai prodotti che adesso animano l'esposizione ospitata nel Palazzo della Fraternita dei Laici. Un progetto didattico nel quale gli allievi del corso hanno partecipato ad alcune giornate di progettazione prendendo spunto dallo studio di una delle opere pierfrancescane più importanti da cui deriva il titolo della mostra, nel segno di Piero dalla vera croce al gioiello. È un omaggio a Piero, nel senso che dopo gli omaggi di Oro d'Autore del 92 e del 2007 seppur in maniera minore, perché questa è una piccola mostra, abbiamo voluto rendere omaggio a Piero anche quest'anno, nel 2016, che cade l'anniversario dei 600 anni della nascita di Piero della Francesca. Il progetto è un progetto appunto del Master perché all'interno del modulo sulla progettazione i ragazzi da un argomento dato ogni anno realizzano dei progetti che poi andranno a realizzare durante lo stage nelle aziende a retine. L'esposizione è aperta dal 22 di dicembre fino al 22 gennaio quindi chi volesse ha un mese pieno per venire a vedere la mostra. Questa mostra rappresenta un'anticipazione però, un preludio come diceva? Un preludio a quello che verrà all'interno di questo palazzo nel 2017 con un percorso espositivo che riguarda Arezzo, città dell'Oro e i suoi tesori. Recupereremo anche opere che provengono dal museo locale ma che sono proprietà di fraternità. Quindi un piccolo preludio, un'anticipazione a finalmente mettere e codificare Arezzo come città dell'oro e dell'orificeria.